Com'è? Sull'orlo di una crisi di nervi. Voi? Ero tranquilla finché non ho visto quelli della delegazione sugli sporti. Ma come? Sono già qui? Sì, è tutto il giorno che stanno prendendo appunti. Beh, magari stanno scrivendo una poesia. Sì, è una poesia. Ma sì, ci sono le selezioni per la nazionale. Fai serio, no? Ma come fai a scherzare su una cosa così? Io vorrei fosse già finito tutto. Beh, raga, però a me sinceramente piace l'energia che si creava prima di questi momenti. Boh, c'è una carica strana. Vediamo, va. Tu sei matta. Dai. 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 Dai.